Continuano le capitali al quadrato del progetto 50x50 di Pesaro 2024 che dal 20 al 26 maggio vedrà protagonista il comune di Mondavio tra cultura e paesaggio come recita il titolo del programma incentrato su una serie di iniziative che spaziano tra arte, poesia, danza e tradizione gastronomica coinvolgendo le associazioni del territorio per una settimana tutta da vivere. Questa settimana vedrà coinvolte diverse associazioni oltre che naturalmente il nostro comune, la nostra amministrazione. Già questa sinergia tra diverse associazioni come può essere l'associazione Proloco che dirigo l'associazione Prosuasa di Sant'Andrea di Suasa ci fa capire che i personaggi coinvolti saranno diversi quindi diverse saranno anche le attività proposte. Per quello che riguarda la Proloco ci occuperemo di due giornate ovvero il venerdì 24 e sabato 25 venerdì 24 ospiteremo su prenotazione appunto chi vorrà venire per una visita guidata alla Rocca e una degustazione di prodotti tipici Tutto questo naturalmente in costume rinascimentale perché a Mondavio non si può prescindere dall'epoca storica quindi questo è. Il sabato invece il gruppo storico al completo animerà il centro storico del Borgo quindi con una sfilata rinascimentale e poi con un angolo per poter animare quello che è il Borgo appunto quindi per poter allietare chi verrà a trovarci. Un'occasione, quella della settimana al quadrato che viene colta anche da Prosuasa per riportare in scena l'evento Parole di Mezzeria dove i protagonisti sono la poesia, i cittadini e la collettività. Noi riproponiamo un evento che non è annuale ma viene riproposto solo in occasioni particolari questa settimana ci sembrava un'occasione particolare per riproporre la quinta edizione di Parole di Mezzeria un evento che è dedicato alla poesia e al paesaggio e alla sua conservazione. Parte dall'idea di trasformare una strada di campagna su un crinale in un posto di socializzazione una strada viene chiusa al traffico e si dà la possibilità ad artisti e persone che vogliono condividere con noi questa esperienza di poter declamare poesie scrivere le loro poesie sul manto stradale con dei gessetti colorati quello di partecipare a eventi di giocoleria, musica, assaggiare prodotti tradizionali del buon vino e quindi trasformare la strada in un salotto di casa. Mettiamo la cultura nella natura e la natura nella cultura. È un binomio che va a letto in entrambe le direzioni e che ha come fondamento quello di rendere una giornata fruibile per tutte le età dai bambini agli anziani renderla un momento diverso dal solito in cui si può vivere all'interno di un ambiente come quello che può essere una sala di campagna come se veramente fossimo in un salotto di casa in cui accogliamo amici, parenti, conoscenti e con cui condividiamo idee che in questo caso sono sotto forma di poesia.